Sessazioni positive, speriamo molto positive, giocarcela e sicuramente ne verrà fuori un risultato positivo. Abbiamo due risultati su tre utili e possiamo benissimo farcela tranquilli. Se giochiamo come contro il Siena sicuramente. Se pareggiamo va bene, io firmerei per il pareggio. Poi se vinciamo chiudiamo la partita già a Novara, però firmerei subito per il pari. L'uomo decisivo non lo so, però sarà molto importante non fare cavolate difensive. È una doppia sfida dove non mi aspetto molti gol in generale, sia qui sia a Varese. Quindi sarà qualcuno della difesa. Le sensazioni sono positive, assolutamente. Andiamo fiduciosi e niente, siamo penso mille. Possione Biancorrosso ha organizzato tre pullman, stracolmi e speriamo bene dai. Tutta la squadra sicuramente darà il 200%, siamo fiduciosi. Positive, per il momento sono positive. La speranza è di portarsi a casa un risultato, speriamo il più buono possibile. Importante, decisiva, quasi decisiva, meno al 50%, comunque sì, importante, molto importante. Basterebbe anche il pareggio, ma non credo che vadano a giocarsi per il pareggio. Cercheranno di vincere, secondo me cercheranno di vincere. A giocare come le ultime due partite sarebbe già una cosa buona, visto che nelle ultime due partite si è visto un Varese migliore rispetto a quello precedente. Sì, molto importante, speriamo di portare a casa un risultato positivo per il ritorno, quantomeno non perdere. Speriamo in bene.